Una o due giorni per chiudere il mandato 2019-2024 del Lanci Toscana. Il presidente dell'associazione, Matteo Biffoni, giunto alla fine del suo mandato di sindaco di Prato, si congeda durante l'ultimo assemblare regionale con gli altri sindaci toscani. Il bilancio è molto positivo, nel senso che abbiamo fatto tante cose in Lanci Toscana, soprattutto siamo particolarmente orgogliosi di averla portata sui territori, andando direttamente nei luoghi che magari sono più distanti a Firenze, nei luoghi più distanti alla sede di Ancistese, abbiamo incontrato lì gli amministratori, i sindaci. Noi pensiamo che i sindaci non siano i più bravi di tutti, ma sicuramente sarebbero molto utili al dibattito nazionale, molto spesso siamo un po', come dire, tutti ci cercano quando c'è da provare i voti, non sempre ci ascoltano, invece c'è da prendere le decisioni. Mi piacerebbe che tutti i partiti, non solo il mio, ci ascoltassero un po' di più. E poi dateci strumenti, dateci risorse e come ha dimostrato il PNRR, noi siamo assolutamente in grado di correre, di portare a fondo i percorsi amministrativi e realizzare opere nell'interesse dell'immunità.